Con un unico grande obiettivo, un corpo perfetto. Rotorini, pancetta, diciamo che non mi mancava niente. Non appena indassi Fear Slim ti vedi subito più magra, ma se la usi con costanza puoi anche bruciare i grassi. Ecco le particelle che fanno tutto il lavoro. I risultati li vedi sulla bilancia. Ho comprato mille band, ma nessuno ha funzionato finché non ho usato Fear Slim. È un indumento di qualità, che ti modella dove ne hai bisogno. Affettisce il ventre, solleva i glutei e nasconde il grasso sul girodita. Con Fear Slim mi sono vista subito meglio. Ecco.